Vittoria importante in trasferta per Roma nell'anticipo televisivo dell'ottava giornata della femminile di volley. Oggi in campo con Eliano e Novara, il servizio di Marco Fantasia. Roma esce con due punti importanti dal campo di Cremona al termine di una battaglia durata 2 ore e 40 minuti. Non basta a Casal Maggiore una prova tenace con ben tre attaccanti sopra i 20 punti per i Nelly e Smagic 25, Edwards 22, i 24 di Bizi e i 19 di Melli alla fine scavano la differenza. Con questa vittoria Roma scavalca Firenze e stacca Cuneo e la stessa Casal Maggiore insediandosi al settimo posto per le Lombarde che faticano a decollare, seconda sconfitta interna consecutiva. Nell'altro anticipo del sabato Trento ha strappato un set a Chieri che continua la sua rincorsa ai piani alti della classifica ed è ora quinta mentre Trento resta a fanalino di coda. La domenica vedrà in campo le altre squadre a cominciare delle due capolista, entrambe in trasferta. Conegliano viaggia alla volta di Bergamo mentre Novara sarà di scena a Pesaro contro Vallefoglia. Impegno fuori casa anche per Scandicci a Cuneo mentre Milano riceve la sorpresa a Pinerolo. Mercoledì due recuperi della quarta giornata saltata per la finale di Supercoppa con Conegliano in casa contro Roma in diretta su Rai Sport e Milano contro Chieri.